Le più importanti malattie infettive e i rimedi più efficaci per affrontarle. E anche la pratica vaccinica attraverso i secoli fino al covid con un focus sul vaiolo e sulla scoperta della pennicillina ad opera del napoletano Vincenzo Tiberio, precursore di Fleming. E l'itinerario della mostra Pianeta Pandemia, storie virali di contagi e rimedi inaugurata nell'ex ospedale Pace in via Tribunali a Napoli. La personale è a cura del Museo Arti Sanitarie e Storie della Medicina di Napoli, che si trova nel complesso dell'ospedale degli incurabili. Un itinerario tra oltre 100 pannelli di dascalici che raccontano la storia di lebra, peste, sifilite, vaiolo, AIDS, SARS, ebola e il covid. Tra gli oggetti, i lancette per le vaccinazioni di varia forgia in uso ai cerusici, meccanismi perfetti con lame nascoste, inoltre una sezione dedicata alla pratica vaccinale del vaiolo e alla prevenzione della sifilide. A visitare gli spazi espositivi il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, il direttore generale della ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, il presidente della quarta municipalità, Maria Caniglia, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha i nostri microfoni precisa. È molto bella e molto interessante perché raccoglie veramente la cultura medica napoletana, quindi un'esperienza molto positiva. Molto importante l'educazione sanitaria delle persone, questa mostra sarà aperta alle scolaresche, porteremo molte scuole delle scuole di Napoli a visitarla, proprio perché è una grande operazione scientifica ma anche culturale.